Modestino! Modestino! Un lato del balfone, stanno dormendo... Stanno dormendo! Che è successo? Come che è successo? Hai dimenticato che c'è l'inaugurazione del nuovo punto vendito la Pontadina? Forza, cammino! Quando adesso? No, stasera! Stasera? Ma sono le otto del mattino, e beh, troveremo fine! Peppi, avevi proprio ragione! La Pontadina è proprio buona! La Contadina, mozzarella doc, è tanto buona, anzi... È divina!